Michele Cammarano, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Consigliere, dopo quasi due anni di proteste della cittadinanza e di varie iniziative tese a contrastare la costruzione di una centrale a biomasse a pochi chilometri dai tempi di Pesto, ma finalmente c'è una buona notizia. La Regione Campania, con un emendamento, sancisce che il rilascio di autorizzazioni regionali per impianti di produzione d'energia è sospeso. Spieghiamo un po' alle persone che ci stanno seguendo da casa che cosa significa concretamente questo. Praticamente, te la spieghi in maniera molto semplice, la Regione Campania non rilascia autorizzazioni nel caso che fossero delle lottizzazioni abusive di terreno. Questo da un lato è sì una buona notizia, però dall'altro lato potrebbe essere qualcosa di negativo perché questo vuol dire abbassare la guardia, non fare più azioni che possono in qualche modo ritardare le azioni alla biocogen e magari aspettare che vi sia una sentenza. Ma nel caso in cui vada prescritto o vi sia una sentenza invece che sia contro di noi, a quel punto la biocogen potrebbe cominciare con l'opera di costruzione dell'impianto o nel caso in cui decidesse addirittura di farlo con propri soldi, potrebbe farlo. Quindi questa è la situazione in maniera molto molto semplice. L'invito che vi faccio ai cittadini e dopo tutto quello che abbiamo fatto, non so se sai, abbiamo anche fatto un'interrogazione in Europa, è quella di non abbassare la guardia, di rimanere compatti, vicini ai comitati che si stanno operando per contrastare la centrale a biomasse e di continuare a creare varie ipotesi di contrasto. Ecco, tra l'altro, mi rifaccio a quanto diceva poco fa, il primo febbraio scorso presentò un ordine del giorno approvato poi tra l'altro all'unanimità dal Consiglio regionale e in questo modo impegnò la Giunta De Luca ad intervenire. A queste interrogazioni, lo vogliamo ricordare ai telespettatori, fece seguito una ulteriore interrogazione del Movimento 5 Stelle alla Commissione europea. Sì, ad oggi non abbiamo ancora avuto risposto perché le risposte, diciamo, alle interrogazioni in Europa sono un po' più lunghe. Diciamo che noi in Campania abbiamo un vantaggio in Regione, quella di fare forte pressione, anche mediatica, sia sulla Giunta sia sul Consiglio. Quell'ordine del giorno fu ripreso anche dal PD che volle firmarlo insieme a noi e dopodiché si arrivò alla maggioranza in Consiglio regionale. Mio sfido chiunque a non votare a favore di qualcosa del genere. E quindi poi da allora è cominciata tutta la procedura e la Giunta si è impegnata per fare il possibile. Ora bisogna capire quel possibile e quanto sia efficace. Successivamente all'intervista realizzata col Consigliere regionale Michele Cammarano sono sopraggiunte importanti novità riguardanti la questione della centrale. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha infatti comunicato alla società Biocogein la decadenza dalla graduatoria riguardante le agevolazioni previste dal bando Biomasse, non avendo provveduto la stessa ad ottemperare a quanto disposto, ossia alla trasmissione della documentazione necessaria, alla concessione delle agevolazioni. La perdita del finanziamento ministeriale per realizzare l'impianto è stato accolto con grande soddisfazione dal Comitato Sorvella Sabatella, promotore della lotta contro l'inceneritore nel territorio di Capaccio Pestum.